Se registrano solo col mio nome potrebbe essere che loro decidano di darle il mio di cognome che però non è quello che è attuale, non è quello che è adesso perché lei, la bambina, ha il cognome di mia moglie. Avevamo conosciuto la storia di Sara e di Jessica, sua moglie, al primo Pride di Belluno. Erano arrivate da Vienna dove vivono e con la piccola Amelia in braccio in piazza Duomo avevano raccontato il calvario per poter trascrivere l'atto di nascita della bambina che oggi ha 15 mesi, nata da fecondazione assistita eterologa e senza ricorso alla gestazione per altri. L'ufficiale di Stato civile dell'anagrafe di Belluno ha rigettato nuovamente la domanda indicando genericamente il contesto normativo lacunoso che ostacolerebbe la trascrizione. Il Comune mi ha detto che la trascrizione avverrà parzialmente e adesso abbiamo avuto 15 giorni di tempo per mandare le nostre osservazioni. Noi siamo in una situazione molto insicura, molto incerta. Noi aspettiamo da parecchio tempo, nessuno ci dà una risposta. Non la viviamo bene naturalmente perché ci sono molti aspetti legali che sono aperti. Dovesse capitare qualcosa a Sara? Cosa accadrebbe in Italia alla bambina? Se la coppia si separasse, cosa potrebbe avvenire? L'ufficiale di Stato civile deve trascrivere l'atto a meno che non ci sia un motivo contrario all'ordine pubblico e questo non c'è. C'è già una decisione della Corte di Cassazione, ci sono decisioni della Corte Costituzionale e hanno detto che nel nostro caso, quindi nel caso di secondazione eterologa, non c'è una motivazione contraria all'ordine pubblico. L'avvocato Antonio Rotelli di Roma, dopo la messa in mora del comune di Belluno lo scorso 4 gennaio, oggi ha inviato un nuovo sollecito e contestualmente ha invitato il prefetto a disporre la trascrizione dell'atto di nascita della piccola Amelia, qualora sussistesse ancora l'inerzia del comune. La mancata adozione di un provvedimento conclusivo, stigmatizza illegale, costringerà a presentare anche un esposto in procura, visto che l'irragionevole tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza nel settembre del 2022 costituisce una responsabilità omissiva gravissima.